Mi piacerebbe saper disegnare bene. Mi è sempre piaciuto disegnare. Diciamo che sono abbastanza brava che se mi date tre ore di tempo una fotografia riesco anche a copiare in modo che la persona che guarda riconosca sì questo disegno fatto da questa fotografia. Non sono scarsissima però sicuramente non sono un genio del disegno e sicuramente non sono brava a fare quei bellissimi disegni realistici super realistici iper realistici che a me piacciono tanto. disegni iper realistici come quelli che fa questo signore che si chiama Howard Lee che ha una pagina una pagina web ha un profilo su Instagram e Lee pubblica questi suoi disegni che fa che sono pazzeschi fa cose del tipo prende un kiwi un pezzettino di cartone mette l'angolo del cartone sopra il kiwi e poi dal vivo disegna quella parte la parte mancante del kiwi sul cartone così come se fosse identico al kiwi. e ha questo risultato pazzesco che nonostante si veda passo dopo passo naturalmente il video è a velocità aumentata e più veloce però si vedono tutti i passaggi che fa fino ad arrivare a un risultato pazzesco di super realismo che quasi non si distingue la parte disegnata da quella da quella reale. ora una persona che è così brava a disegnare così brava a mischiare i colori e a copiare i colori delle cose nella vita reale su carta immagino che abbia questa dote a molte applicazioni nel mondo del lavoro immagino che sarà un illustratore. però è divertente vedere quelli che sono alcuni dei progetti che pubblica sulla sua pagina e uno particolarmente che mi ha fatto morire dal ridere è questo progetto per carità fatto benissimo poi sempre filmato e poi fatto vedere a velocità aumentata per cui si vedono tutte le fasi dall'inizio alla fine. lui cosa fa prende un mobile che sembra immaginatevi un comodino lo mette in un angolo in una stanza e poi dipinge questo comodino così che diventi invisibile cioè mette tutti tutti il nastro di carta per suddividerlo fa una parte come il muro una parte come il pavimento angolazione particolare l'ombreggiatura. tant'è che alla fine quando è tutto finito sembra effettivamente che non ci sia nessun comodino ora io mi dico non so se sia mai capitato di sbattere il piede senza scarpa sull'angolo del letto sull'angolo del mobile immaginatevi cosa deve essere avere in un angolo un mobile che è quasi invisibile per cui non si vede e voi andate a sbatterci sopra oppure vi serve qualcosa non trovate la maniglia per aprire insomma non mi sembra la cosa più utile se non all'interno di un film di harry potter comunque bravo questo signore bravo howard lee beato lui che sa disegnare così bene